Sono Michela Prest, presidente del corso di laurea in fisica. Sei curioso? Vorresti capire come funziona tutto quello che ti circonda, quello che vedi e anche quello che non vedi? Allora fisica è il corso di laurea adatto a te. I fisici costruiscono gli strumenti per osservare l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande, per capire da dove viene questo universo e dove intende andare. I fisici hanno inventato i computer del futuro, i computer quantistici, e hanno sviluppato tecnologie che permettono di osservare l'interno del corpo del paziente per diagnosticare le malattie e curarle. Grazie alla fisica classica e alla fisica quantistica ti aiuteremo a sviluppare una forma mentis che ti permetterà di approcciare i problemi da tantissimi punti di vista, un biglietto da visita fantastico per entrare nel mondo del lavoro. Non ci sono prerequisiti per accedere a questo corso di laurea, solo la voglia di imparare. Certo, un corso di laurea in fisica non è una passeggiata, è un po' come scalare una montagna. A volte ti mancherà il fiato perché è troppo ripida, altre inciamperai, ma poi arriverai sulla cima e ti troverai di fronte un panorama meraviglioso, l'insieme di tutte le strade che potrai scegliere per continuare il tuo percorso a seconda dei tuoi sogni e delle tue aspirazioni. Insomma, ti troverai di fronte al tuo futuro, perché tu, studente di oggi, sarai il protagonista delle scoperte di domani. Scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Alessandra Caprioli e frequento il secondo anno del corso di laurea triennale in fisica. Ho scelto questo corso perché fin dal liceo sono stata affascinata dall'eleganza di questa materia e vorrei in futuro conseguire la laurea magistrale in fisica medica. Il percorso che voglio intraprendere è di tipo sperimentale e si basa sull'applicazione delle conoscenze fisiche in ambito medico. Credo che questo ramo della fisica sia fondamentale perché ci permette di contribuire attivamente al benessere sociale e di incrementare le nostre conoscenze a livello diagnostico e terapeutico, favorendo un trattamento ottimale al paziente. Ho potuto osservare, attraverso varie attività di orientamento, l'ambiente raccolto e familiare dell'Università dell'Insubria, che favorisce una didattica a misura di studente. Scegli oggi il tuo domani. Grazie. 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 Grazie.